Ciao ragazzi, qui è stato il 97 e benvenuti su Dominio Call of Duty Infinity Warfare Ragazzi, era già da parecchio tempo che non vi facevo Ma dove cazzo stanno queste boss? Era da parecchio tempo che non vi facevo uno Sotto controllo Vieni qui, qui Ragazzi, forza, dai Ok ragazzi Oddio Perfetto, dai Ragazzi, mi sono voluto mettere questa specialista Ragazzi, tutti subì, forza, forza, dai, 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 dai Solo io ragazzi, amo, non è possibile Forza ragazzi, dai, 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 dai Facciamo vedere a chi siamo, dai, 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 grandi ragazzi, dai, forza Che cazzo lo devi fare Ragazzi, qui Guarda dietro però Ok, così mi piace il gioco di squadra Ragazzi, il gioco di squadra Plicchiamo la porta ragazzi Se uno deve vincere Deve sapere Dai dai Ecco quello da dietro Ci vuole sempre Il coglione Col Titan pure Affanculo va Dai raga Tutti su A Qui Ok Affanculo Eh raga E' un po' tossa però Dai Alla fine Su Infinity Warfare Ti riesce un po' più facile Dai Alla fine voi Quello dovete dire Dai Cazzo volevi fare Ragazzi Ok dai Forza Prendiamoli Dove stanno Ragazzi però Ditemi sotto il gioco in commenti Se sto giocando benissimo Ma diciamo che sta andando bene Per lo più Non vi volevo fare Deathmatch a squadra Ma Ho detto Voglio un po' provare A farlo meglio Però ragazzi Come Call of Duty Black Ops Alla fine Alla fine è come questo Non è che Arrivo Ecco Ragazzi Tutti su B B B Eh calla Affanculo Dai raga Vai Abbiamo tutti gli obiettivi Ok Perfetto Ma serio Serio Vabbè ragazzi Io Il video lo finisco qua Incompletato Vabbè 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 Vabbè